Una volta In qualche luogo in Italia Nel paese per la festa Il mamma era nella finestra che sogna della pasta Benvenuto Il turno della cottura stava solo per cominciare, la famiglia era tutta Ogni buono, ricetta comincia con l'olio di olivo vergine Regarde la parte inferiore della vecetta Dopo aggiungo le cipolle e i peperoni dolci tagliati Simmer su a calore ridotto per 45 minuti Micella costantemente così che non attaccia A volte i vicini rivelando con il loro cocuz Dì a loro un grande bacio Convince qualcuno o sbucciare il aglio Dopo sera i pomodori Comprima la spremuta per mezzo di una pressa Vesigli interi pomodori nella pressa Comprassi oltre Comprassi oltre Comprassi oltre La spremuta attraverso Intrapalando il semi all'interno Non la dimentica di continuare a mescalarsi. Esca della mia cucina. Proline a sinistra, sugo a destra. Dopo che la cipolla hanno brunito, la cola dovrebbe brunire 45 minuti. Allora aggiungo la spremuta compressa del tomato. Iniziare a sentire l'odore di buon. Il mama sta attendendo. È fatto ancora? Infine. Dopo aver ricato a 350 gradi a metà di ora è tempo di mangiare. Il mama è pranto. La tabella è regolata. Buon alimento. Dopo il pranzo, descendere sul patio. A presto. 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 A presto.